Papà, tutti i miei amici stanno andando al campo estivo per una settimana, posso andare per io? Ma che bella soddisfazione che mi stai dando. Mari! Che c'è? Tuo figlio vuole andare al campo per una settimana. Che bella soddisfazione. Questa cosa ti aiuterà a crescere, a capire quali sono le tue responsabilità. Non dipendere solamente dai genitori, ma vederselo da solo. Bravo, amore. Sarà un'esperienza meravigliosa. Mi raccomando, non far arrabbiare il signore. Ci vediamo fra una o due settimane. Diverti dal campo. Ciao! Papà, ma io non intendevo questo campo. Voglio, sei pronto a tagliare i mignoni? Che cosa sono i mignoni? I mignoni sono chi che ha cresciuto sotto il tavolo. Non c'è questo, ma taglio. Perché chi non fa stile, è da quel grado. Posso avere un po' d'acqua, per favore? Perché tu sei venuto fin dopo avere l'acqua. Ho anche un po' di fame. E ci sei venuto a fare un pascone. No, è molto l'acqua, è molto fame. Ma fatica, ho proprio... Io voglio andare al campo estivo. E quali ho il problema? Eppure qua stanno le signorine, vedi? Signore, per favore, puoi chiamare papà mio? Le dici che voglio tornare a casa, che non mi sento bene? Ehi, numero sconosciuto. Sarà qualche consenso. Pronto! Sì, scherzo, ma ci mi si fatemi... Oì, non sto capendo niente. Tieni, deve essere qualche interurbana della città. Pronti! Allora, allora! Da dove chiama? Chi sta pagando l'interurbana, signore? Papà, salvami, papà! Mi passi Giuseppe, per favore? Pronto, papà! Chi ti ha detto di andare a Singapore? Ma io sto in Italia, questo parla così! Vabbè, che vuoi? Ma io volevo fare il campo estivo. Ebbè, scusa, che stagione è questa? Estate! E tu dove stai? Al campo! E quindi, campo estivo! Oì, fammi chiuderemo, ma che la mamma ha preparato le orecchiette. E sono pure parecchie, ciao! Ma che ha detto il carnevale di tuo padre? Ha chiuso perché deve mangiare le orecchiette, che la mamma ne ha fatte parecchie. Ah, e noi qua a spaccarci le perchie.